La struttura classica di una funzione di trasferimento è questa segnata in rosso, in particolare questa è una funzione di trasferimento ad un solo polo. Se avessimo una funzione di trasferimento generale dovremmo esprimerla in un modo classico che è quello di dividerla in prodotti di zeri a numeratore, prodotti di poli a denominatore, con questo tipo di struttura. Andiamo a analizzare qual è il diagramma di Bode corrispondente a questa funzione di trasferimento in un caso particolare in cui la tau vale 0,1. Questa è la funzione in S di trasferimento. Se analizziamo il circuito, se a noi interessa la risposta solo al regime sinusoidale, possiamo sostituire la S con jω e ci ritroviamo una funzione di trasferimento che è questa qui. In particolare sulla funzione in S, noi possiamo, anzi viene definito come polo, quel valore di S per il quale il denominatore si annulla. Quindi in questo caso ho un polo posizionato a 1 diviso 0,1, quindi a meno 10. Detto questo, se siamo interessati al diagramma di Bode di questa funzione di trasferimento in jω, dobbiamo andare a calcolare appunto il modulo e la fase di questa funzione. Il calcolo del modulo prevede il modulo del numeratore sottratto a quello del denominatore. Se stiamo lavorando in db, quindi 20 logaritmo di 1, 20 logaritmo di 1 si annulla, meno 20 logaritmo di parte reale al quadrato, 1 al quadrato, parte immaginaria al quadrato e questo è il secondo termine. Possiamo dividere sommariamente in fasce di pulsazione questo tipo di calcolo in modo da semplificarlo. Quindi abbiamo che per ω molto minore di 10, questo tipo di rapporto diventa trascurabile rispetto all'1 e questo calcolo ci dà 0. Quindi per ω molto minore di 10, noi abbiamo che la funzione di trasferimento in modulo vale 0. Quindi 10 è posizionato nel valore di log di ω pari a 1 e quindi avremo un tratto di questo tipo. Nel valore ω uguale a 10 si ha meno 20 logaritmo di radice di 2, in particolare questo corrisponde a meno 3 db, quindi abbiamo un posizionamento circa qui. Per valori molto maggiori di 10 è l'1 ad essere trascurabile, abbiamo una struttura di questo tipo. Nella struttura di questo tipo, riducibile a questo tipo di funzione, ogni volta che la ω diventa 10 volte la ω che analizzavamo in precedenza, il logaritmo diventa un logaritmo di potenze di 10 che crescono e quindi rendono questo logaritmo in questo caso 0, in quest'altro 1, in quest'altro 2. La moltiplicazione per 20 costringe a diminuire di 20 db ogni volta che la ω varia di una decade. Quindi per ω molto maggiore di 10 noi possiamo dire che l'andamento è un andamento di questo tipo con pendenza appunto meno 20 db per decade. Questo se parliamo del diagramma reale, quindi abbiamo un andamento circa di questo tipo. Spesso si usa rappresentare invece il diagramma che è un diagramma asintotico. Nel diagramma asintotico l'approssimazione che si fa è di considerare fino al valore della frequenza divisoria, che è la frequenza in cui il valore massimo si è ridotto di meno 3 db o è stato ridotto di 1 su radice di 2, e poi considerare un'attenuazione di meno 20 db per decade per tutto il tratto successivo. Quella frequenza in particolare si chiama frequenza di taglio ed è 10 in questo caso, da non confondere con quello che è il polo, il valore del polo posizionato in meno 10. Per quanto riguarda il calcolo della fase, arco tangente di un rapporto è l'arco tangente del numeratore meno quella del denominatore, e l'arco tangente in questo caso diventa la mia fase, arco tangente meno arco tangente di ω su 10, cioè la parte di denominatore, questo meno arco tangente di ω su 10 per gli ω molto minori di 10, meno arco tangente di 0, cioè 0 gradi, quindi avremmo una funzione di questo tipo. Per ω uguale a 10 è arco tangente di 1, meno arco tangente di 1 in particolare, e quindi è meno 45 gradi, quindi la posizioniamo qui a meno 45 gradi, segniamo un altro valore importante che è meno 90 gradi, che è il valore che assume l'arco tangente nel momento in cui l'omega diventa molto maggiore di 10, quindi arco tangente di più infinito in sostanza. Quindi da qui proseguo in questo modo. L'andamento reale in realtà è modulato in questo modo, l'andamento asintotico invece prevede che fino ad una decade prima della frequenza di taglio non ho acquisito nulla dello sfasamento complessivo che mi farebbe acquisire il polo, acquisisco 45 gradi alla frequenza di taglio con un andamento lineare in frequenza dello sfasamento e arrivo a 90 gradi una decade dopo. In realtà non è proprio così, acquisisco uno sfasamento anche prima della decade precedente alla mia frequenza di taglio e continuo ad acquisire uno sfasamento anche dopo, partendo comunque sempre da 0 gradi e arrivando a meno 90 gradi. Quindi richiamando alcune questioni importanti, il polo è il valore della variabile S che annulla il denominatore e anche se numericamente lo potrebbe richiamare, non ha a che vedere con la frequenza di taglio, se non attraverso relazioni analitiche, con la frequenza di taglio che è invece quella, o pulsazione in questo caso, alla quale il modulo si è ridotto di meno 3 dB oppure di 1 su radice di 2 in valori non in dB.